Ebbene, lì quando ho letto la notizia che Canva ha preso questo investimento e adesso varrebbe 3.2 miliardi di dollari, so, mi è venuto il ricordo, plink, mi è scattato il ricordo. Il ricordo è questo qua, divertente. Nel 2014, loro sono partiti nel 2012, australiani fondati da Melanie Perkins, fondatrice australiana, ragazza molto smart, molto sveglia. A un certo punto è andata in Silicon Valley, ha preso 750.000 utenti subito il primo anno Canva e nel 2014 entrò Guy Kawasaki come chief evangelist, in sostanza come divulgatore. Ai tempi, Guy Kawasaki, per gli addetti ai lavori, era un nome forte, io peraltro l'ho intervistato anche. Guy Kawasaki, ex Apple, molto noto per il mondo delle presentazioni, no? La presentazione, metodo Guy Kawasaki, insomma, andate a guardare se vi interessa. E molto avanti anche lato social agli inizi. Poi adesso l'ho visto un po' uscire di scena, però, insomma, è un nome storico. Ecco, quando nel 2014 decise di ricoprire quel ruolo in una nuova aziendina, mi ha molto incuriosito questa cosa e siccome stavo organizzando delle interviste online in quel periodo, ho contattato la fondatrice, Melanie Perkins. C'è ancora la mail con Melanie, non la posso pubblicare per motivi di certezza, non c'è scritto niente, semplicemente mi pacò, disse, guarda non ce la faccio, sto giro, ma lei era, diciamo, ancora totalmente sconosciuta. Oggi Canva vale stimolare di qua, ma a parte le valutazioni che sapete che sono sempre divertenti da citare, ma poi possono voler dire tutto e niente. Canva ha 500.000 utenti paganti ogni mese. Considerate che costa, ve lo dico subito quanto costa Canva, costa qua in Inghilterra 10,99 al mese, 10 sterline 99, oppure 9 dollari al mese se paghi annuale. Quindi 107.99 sterline costa all'anno, salvi il 18% se paghi annuale. Ok, quindi lo scontano, diciamo, 20% sul pagamento annuale rispetto al mensile. Dentro Canva, che immagino molti conosceranno o useranno, già, hanno tutta la raccolta dei vari template per le copertine di YouTube, per fare il volantino. La loro idea, ecco, questa è la cosa che mi sembra interessante notare, la cosa secondo me molto interessante di Canva, a parte che mi sembra che facciano dei numeri davvero incredibili, perché 500.000 utenti paganti, porca paletta, ogni mese così, non sono pochi. Ma perché sono riusciti? Perché offrono dentro a quest'app tutto e di più. Al posto di far pagare in più, mettono dentro in continuazione roba nuova, no? Tutta una serie di strumenti nuovi. E questa è una strategia vincente, come Peloton, che dice io metto dentro tutto a 39 al mese, fine. Allora questo secondo me è un buon indizio, è una buona lezione per noi startupari. A volte c'è la tentazione di continuare, no, a farti crescere, farti pagare di più, in questa scala, in questo funnel che ti porta sempre a pagare di più. E invece una modalità, c'è chi lo fa, ma una modalità è anche quella di stabilire un prezzo e lì farti godere come un bastardo, crearti la libidine produttifera che dici io questo prodotto, cioè non lo lascio più. Canva va in quella direzione. Peraltro loro evidentemente non si fermeranno alle immaginette statiche, ma metteranno dentro anche i video, immagino, gli audio, tutta quella parte lì e diventano un posto dove tu con due dirette, hop, c'è dentro tutto per il design. Vi faccio notare peraltro che quando sono usciti questi signori competevano con i Photoshop di turno, competevano con dei software che costavano 1500 euro, erano difficili da usare, ogni due minuti ti vendevano l'upgrade e dovevi pagare di più e allora capite che un'app che voglio diventare un po' esperto di... Vabbè, no, anche no. Un'app che costa 12 euro al mese, 10 euro al mese, magari non aveva dentro tutto e non aveva dentro tutto e non era equiparabile a Photoshop e non è equiparabile avere un designer super fighissimo che ti fa tutto, ma per molti che devono solo fare il bannerino, la copertina di YouTube, la cover di Facebook, queste robe qua, c'è 10-12 euro al mese, risolto il problema, cambio solo i testi, c'ho già più o meno tutto pronto e sta finita. Canva, 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 non piglio ovviamente una lira per segnalare questo video, non metterò nessun link a Canva, non c'ho nessun link a filiazione, non la conosco Melanie perché non mi ha neanche lasciato l'intervista, però lei è un personaggino a tenere d'occhio perché è molto, molto decisa come persona se la guardate nelle interviste. Peraltro loro quando erano usciti, il primo articolo scritto su di loro fu un totale disastro. Lo faceva notare la stessa Melanie Perkins in un'intervista, non con me era l'intervista e non citava la fonte, però ricordo in quel periodo c'era questa visione di un'app per cellulare che non poteva di fatto essere utile per il design, perché il design richiedeva i grandi schermi. E poi un'ultima cosa, lezione interessante da questa storia di Canva, la collaborazione. In pratica hanno fatto un po' tipo Slack, con questo modello dove se tu vuoi collaborare con me, hai fatto un design e vuoi che ci diamo delle approvazioni, delle modifiche, a quel punto io me lo piglio anch'io e riusciamo a collaborare meglio. In questo modo Canva, al posto di venderti una licenza, te ne vende un botto. Infatti sono usciti adesso con una versione più grossa per le aziende. Interessante come che stadi, cercherò di intervistarla sta Melanie Perkins, prima o poi ve la porterò.